Sai cosa mi piace tanto? Comprare tutte le panocchie così nessuno può mangiarle Oh, anche quello, ma in realtà è colpire forte il cattivo fino a farlo buttare Così dice, oh, c'è qualcosa che ho mangiato, ma è perché l'ho colpito tanto volte Quindi l'hai fatto per me perché sai che io adoro il Natale Sì, certo Grazie Sì, Swass diceva non farlo, ma io gli ho prontamente risposto Sì, Swass, sono io il capo qui, ok? E a Ciaro piace tanto il Natale, perciò? Aspetta Qualcosa non vuole È il sistema partentivo integrato di neutralizzazione aerea La sfida è staccata, siamo vulnerabili Perché l'hanno disattivato? L'unica spiegazione è che nel me nido si sia infiltrato un sabotatore E che siamo sotto un imminente attacco a Eio Eccolo Non ci posso credere Ho un'idea Ho un loro tempo di amare in me i missili Ci passo io Che cosa vuoi fare? Augurerò questo vizio un buon Natale e un fulminante anno nuovo Prisi Vi svolgόI Vi hai fatto s categories Oh 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 Uh oh 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 ohScoTOP ma I'vastigan Abbiamo colpito il bambuoletale? Tu hai colpito il bambuoletale? Tu hai colpito il bambuoletale? Tutto lo può succedere? Non lo so, 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 non lo so... Ok, ho trovato un po' di lana e il dente! Abbiamo fatto il bambuoletale e tutto il sia lavoro a maglia! Non potremo far finca di niente quando gli altri torneranno! Ma io non so farlo! Si che sai farlo certo, si può sempre imparare per compiere un miscato! Oh, il puto! La signora delle pannocchie ha finito le pannocchie! No, le è rimasto soltanto questo stupido gelato! Non lo so se volevi una pannocchia! È vero! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! Non è giusto! E' così! E' così! E' anche bene! Se non sbaglio quella che vedo è una maglia gettata quadrata! Oh, mi dispiace! Grazie! Abbiamo visto un lappo del cielo sopra il bambino! Questo bambino! Proprio questo! Ah! E che cosa c'è sotto quel lenzuolo con il cartello che dice Non sono a fare i boschi! Sono sicura che non sono a fare i boschi! E' un amico di Babbo Natale! Già passato! E' un amico di Babbo Natale! Già passato! Babbo Natale! Babbo Natale! Hai fulminato Babbo Natale! Credevamo che qualcuno stesse attaccando il bambino! Chiunque avrebbe fatto lo stesso! Brancolavamo nel buio! Abbiamo rieschivato il sistema e abbiamo fatto esplodere Babbo Natale nel cielo! E mi sento malissimo! Ok? Questo voleva sentire! Aspetta! Babbo Natale sta bene! E... Lì! Cosa è? È il mio mio mio! Oh! E chi sono? Tu sei Babbo Natale! Questo è? Cos'è un Babbo Natale? Ufff! 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 Ehi! La testa quando è caduto, perché ci ha avuto farlo esplodere insieme. Allora dov'è adesso? Già, è bloccata qui a suoi più una vigilia di Natale senza sapere chi è. No, l'abbiamo nascosto dietro quella porta, Conte, ma no. Quali padrocchie? Ma fai sangue! Ciò che importa è che Suos trovi un modo scientifico per fargli trovare la memoria. Inoltre, l'uomo ne sarà al sicuro dietro quella porta. La slip è andata, non posso fare nulla. Oh, bello, 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 bello. Ma io posso fare qualcosa? Grazie, Susanna, ciò. Il problema è risotto. E per rimediare quello che ha fatto stata, per Natale vi darò il giorno libero. Sì! La notte di Natale la vorrei. Il problema è risotto. Il problema è il nostro, quello di tutti, è che a causa vostra popoletà sta girando per le strade di Swellview senza cervello. Credo che il cervello ce l'abbia, ok? È solo che non funziona molto bene. Già, potrebbe andare peggio. Sentiamo, come puoi dire? Altre, vento e 70, direttamente da Salle Appartino, che bellezza! Ehi, abbiamo ragione, è questo il pezzo! Grazie! Grazie!